è partita anche la registrazione Grazie. Grazie. Per un attimo non compariva la sala d'attesa. Ci sono delle persone con il microfono aperto? Non dovrebbe essere, dovremmo aver fatto correttamente. Riproviamo, verifico. Su sicurezza, vero? Io direi che possiamo cominciare. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova rassegna di Venerdistoria che, per ovvie e ben note motivazioni, sarà condotta in questo modo, attraverso la piattaforma Zoom e con la possibilità di seguire comunque l'incontro anche in streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica e a partire da qualche giorno dopo la conferenza anche sul canale YouTube della Biblioteca dove saranno caricati i video di tutte le conferenze. quindi benvenuti davvero a tutti, siamo felici che siate anche così numerosi. Chiediamo scusa fino adesso, fin da subito, se ci potrà essere magari qualche intopo, qualche piccolo disguido legato alla tecnologia che ci assiste di solito, però magari può esserci qualche defaianza. La rassegna è organizzata, come negli anni scorsi, dalla Biblioteca Civica di Bassano, dal Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione, in stretta collaborazione, con l'Associazione AVL, con l'Associazione Ampi, sezione di Bassano del Grappa, con l'Associazione 26 Settembre e con gli Stredi. Con loro la biblioteca si riunisce periodicamente per stendere un calendario di incontri che per questa rassegna, che parte oggi e continuerà fino al 24 di aprile, prevede otto appuntamenti, tutti nella modalità in cui li stiamo conducendo adesso, cioè su piattaforma Zoom, otto incontri che affronteranno tematiche diverse, alcune legate ad alcune celebrazioni importanti del calendario Cirile, oggi la giornata della memoria, il 12 febbraio il giorno del ricordo, e poi, come avrete potuto vedere nel programma, le tematiche sono davvero le più diverse, con un avvicinamento alla contemporaneità in un incontro, quello del 16 aprile, dedicato agli scenari internazionali, alla situazione geopolitica, al ruolo della Cina ai giorni d'oggi. Di nuovo quindi ringrazio anche a nome dell'amministrazione e le associazioni che collaborano con la Biblioteca Civica e gli Istredi. Lascio la parola per un breve saluto al professor Francesco Tessarolo dell'Associazione AWL, presidente nazionale di AWL e collaboratore fin dalla prima edizione di queste rassegne di Venerti Storia. Grazie, Francesco. Bene, allora prendo la parola, anche io per unirmi ai ringraziamenti, in primo luogo a Paolo Taggini ed Antonio Spinelli che volentieri saranno i nostri ospiti stasera. Quanto all'appuntamento, la legge del 2000 ha definito la giornata delle memorie in questi termini. La Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz come giorno della memoria, al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio. Ecco, una cosa che ho trovato è che cinque anni dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che alla pari sceglieva ancora il 27 gennaio come giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Quindi c'è questo orizzonte non solo italiano ma europeo e internazionale che ci spinge a questo appuntamento. Però quello che mi preme dire e che è un po' credo la chiave di lettura per l'incontro di stasera è il fatto che non stiamo assolvendo così un impegno, un obbligo di legge, ma stiamo ragionando sul fatto che la storia con la S maiuscola, quella delle grandi vicende dell'umanità particolarmente pesanti e drammatiche come quelle di cui parleremo stasera, sia strettamente intrecciata con la storia individuale, con le scelte che i singoli hanno fatto quotidianamente. E qui penso alla banalità del burocrate Eichmann che ha dato l'idea a Dan Arendt che ne ha parlato della banalità del male e penso anche a quello che è accaduto, come sentiremo tra breve, nelle nostre strade, nei nostri paesi dove gente che viveva accanto le une alle altre, persone si trovava o a denunciare chi ospitava, chi proteggeva, chi aiutava gli ebrei e gente che invece appunto gli aiutava. Ecco, pensare a tutto questo e capire l'intreccio profondo che lega la S maiuscola della storia e le vicende individuali è un po' il tema che affronteremo insieme stasera. Paolo Taggini già nel 2006 nella sua tesi di laurea ha affrontato il tema delle poche cose, cioè l'internamento degli ebrei e dei civili stranieri nel nostro territorio. ha aiutato da Antonio Spinelli che insieme hanno messo a punto un quadro che ancora oggi presenta molti aspetti del tutto in ebrei. Darei subito a loro la parola, anticipando che nel corso della relazione sarà possibile intervenire scrivendo via chat domande o volendo direttamente poter intervenire alla fine. Quindi do subito loro la parola e ringrazio Stefano Pagliantini e la biblioteca per questa opportunità che ci viene offerta anche in questa epoca di pandemia così difficile. Grazie. Grazie e mi permetto solo una precisazione dal punto di vista tecnico. Invito tutti i partecipanti a silenziare il proprio microfono. Noi abbiamo oscurato il video e a scrivere in chat le domande che saranno poste, come diceva Francesco Pessarolo, alla fine ai relatori. Grazie. Prego. Allora se pensavamo di fare così, di proporre una introduzione in modo tale che si comprenda pieno il collegamento tra le singole storie, come ci ha detto Francesco, e il contesto storico dell'epoca per poi passare appunto all'analisi di quanto accaduto nel territorio. Chiedo a Stefano di rendermi coospite in modo tale che io possa condividere alcune slide e alcune immagini. Noi cercheremo di affrontare appunto l'argomento alternandoci io e Antonio. Buonasera a tutti e grazie a Francesco, anche da parte mia, e grazie al dottor Pagliantini, dell'invito per ancora andare in qualche maniera esplorare questo tema attraverso anche una visione, quella degli internati civili non ebrei che più volte ricorrono in questa storia ma che poi appunto, forse anche un po' a causa della centralità della questione ebraica, vengono un pochettino tenuti a margine. Oggi abbiamo pensato anche di riproporlo, anzi di proporlo quasi come una tematica nuova che sinceramente viene poco appunto pubblicizzata e esplorata. Lascio ad Antonio appunto questo primo momento introduttivo, poi appunto come è stato indicato andremo a mettere la nostra lente di ingrandimento sulla storia locale, in particolare quella che lega il fenomeno dell'internamento ai comuni compresi nel territorio tra l'astico e il Brenta. Abbiamo pensato di fare una sorta di recinzione un po' rispetto alla complessità maggiore che ha avuto questo fenomeno all'interno della nostra provincia appunto per una questione di tempo perché se no sarebbe... Io Antonio potremmo parlare ore e ore e allora è meglio contingentarci un attimino. Non lo faremo. Non lo faremo, non preoccupatevi. Lascio la parola ad Antonio, nemico in casa, internati ebrei e civili stranieri nella provincia di Vicenza. Prego. Allora, sì, ribadisco quanto detto da Stefano, ci sono dei microfoni aperti che sono anche abbastanza individuabili, quindi si pregano a Stou, Moira, Zonta. Altrimenti Stefano bisogna silenziarli o bloccarli. Comunque possiamo cominciare. Come vedete qui, adesso proiettiamo qualche slide così per capire un po' da dove partiamo. Allora, alcuni riferimenti che collegano poi il periodo precedente alla guerra, quello dell'ingresso nel conflitto e quello successivo al 43. Qui avete visto, insomma, avevo già messo su la prima diapositiva che fa riferimento alla legge di guerra del luglio 38, che prevedeva la possibilità dell'internamento di persone che potevano portare armi ritenute pericolose e anche la possibilità non soltanto di internarli in campi, ma anche di obbligarli a dimorare in una precisa località. Quindi qui abbiamo già in qualche modo il perimetro, il quadro legislativo che poi ha permesso al fascismo di operare durante il conflitto nei confronti, come diceva Paolo, non soltanto degli ebrei, ma anche dei nemici, poi vediamo, dei proteggendi, dei congiunti di ribelli e così via. La cosa interessante è che queste disposizioni crescono. Nel senso che adesso non facciamo tutta la storia di tutte le circolari e di tutte le leggi tra il 38 e il 40, ma vanno a crescere fino a quando, con l'arrivo del conflitto, anzi già un mese prima, a livello ministeriale e governativo si comincia a ragionare sulla presenza delle persone da internare e da controllare. Come vedete già qui siamo nel maggio del 40 e comincia a far, ad esserci il riferimento naturalmente, riferimento che fino a quel punto non c'era stato, agli ebrei stranieri. Come potete vedere anche in basso, le circolari che qui sono riportate così a mano, dicono subito, no, soprattutto quelli, quegli ebrei stranieri che vi sono venuti con pretesti, inganno, mezzi illeciti, e che dovrebbero essere considerati appartenenti a stati nemici. Quindi non soltanto c'è l'attenzione nei confronti di questi gruppi, ma lì si accusa anche di essere entrati con mezzi illeciti, ben sapendo quello che stava accadendo, e lo sapevano tramite le ambasciate, la diplomazia, tramite le domande stesse degli ebrei o di altri internati, che scrivevano raccontando alle autorità perché erano arrivati lì quando venivano fermati, ad esempio, al confine. A partire da questo il Ministero elabora tutta una serie di classificazioni pericolosi, pericolosissimi, quelli da sorvegliare, eccetera, eccetera, fino a quando Bocchini, come potete vedere qui, in questo documento chiede, cioè Buffarini Guidi chiede a Bocchini, di approntare dei campi di concentramento, e usa questo verbo che ci ha sempre colpito, che è quello di desiderare, che è un verbo su cui c'è da riflettere. Il Duce desidera che si preparino dei campi di concentramento anche per gli ebrei in caso di guerra. Insomma, in pochissimo tempo, tra il maggio e il giugno, non vi dico, ci sono almeno, credo, 15-20 circolari, quindi non disposizioni legislative, ma circolari interne che il Ministero dell'Interno manda ai prefetti, che parlano dell'internamento, degli arresti. Nel frattempo questi campi vengono approntati e se vedete che c'è già un movimento interno ai ministeri, provo a ingrandire un attimo, perché così potete vedere, vedete, si sono già approntati campi per 4.700 posti e così via. Quindi c'è una discussione interna, si preparano le prescrizioni, che poi saranno le regole che varranno sia all'interno dei campi, sia poi nell'internamento libero, di cui si parlerà dopo, e si arriva poi all'ordine. Un ordine che noi vediamo netto. Attenzione, è un ordine che non vede subito coinvolta la provincia di Vicenza, perché la presenza di ebrei stranieri era molto limitata nel 40, al momento dell'ingresso dell'Italia in guerra, ma che vede una serie di rastrellamenti in tutta Italia. Moltissimi ebrei presenti a Milano, per esempio, perché lì erano arrivati dalla Germania, dall'Austria, da altri paesi o a fiume, vengono rastrellati nel giugno, a Padova, quattro giorni dopo questa circolare che state vedendo qui, e ancora una volta non solo c'è l'ordine, ma c'è anche il convincimento morale da parte del Ministero nei confronti della periferia politica. Infatti, se vedete, c'è scritto detti elementi indesiderabili, imbevuti di odio contro i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per difesa dello Stato e d'ordine pubblico, vanno tolti dalla circolazione. Insomma, si arriva velocemente a questa situazione, che adesso dovreste vedere, ditemi se è abbastanza visibile, si arriva a una situazione per cui l'Italia, il fascismo, si dota di un sistema concentrazionario di cui si parla forse non troppo spesso e qui lo vedete in tutta la sua estensione. Lo vedete sia con riferimento al periodo 40-43 e vi pregherei di guardare sulla destra, quindi quelli che sto mostrando da questa parte, il campo, come sapete, più importante, più grande è quello di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza, ed è un campo importante perché, come sappiamo, da lì, quando viene concessa la possibilità del ricongiungimento familiare o dello spostamento dal campo di concentramento ai comuni di internamento, da Ferramonti arriveranno in provincia di Vicenza e non solo, nel Veneto in generale, diverse decine, in questo caso, di ebrei stranieri. Quelli che vedete dall'altra parte in realtà appartengono al periodo successivo, cioè sono tutti i campi, i cosiddetti campi di concentramento provinciali, che nascono dopo l'ordine di polizia del 30 novembre 43. Se mettiamo insieme questi due aspetti, abbiamo un'immagine di un paese in qualche modo circondato dal filo spinato, circondato e riempito di strutture che dovevano appunto sorvegliare persone che di pericoloso non avevano nulla. Mi spingo velocemente verso il Veneto, così poi do la parola a brevissimo a Paolo, e questa è la cartina, una rappresentazione di ciò che è accaduto in Veneto. In Veneto ci sono stati dei campi di concentramento tra il 40 e il 43, non destinati agli ebrei, ma agli yugoslavi, ex-yugoslavi. Penso a Chiesa Nuova a Padova, che oggi è ancora visibile, è una caserma militare, e penso anche a Monigo, in provincia di Treviso, due grossi campi di concentramento destinati agli yugoslavi, ritenuti pericolosi da internare in Italia. Per il resto, quei comuni che qui vedete, adesso non è importante il dettaglio, è importante l'insieme, l'impressione, la vista d'insieme di una regione che diventa luogo di internamento, è la regione che ha il maggior numero di internati d'Italia. Se è vero Paolo, se si eccettua la Calabria, perché c'era il campo di Ferramonti. Ma io direi che la provincia di Vicenza è stata, per quanto riguarda l'internamento libero per gli ebrei, la provincia col più alto numero, appunto, di persone costrette a essere soggette a questa costrizione. e quindi è sicuramente quando Francesco accennava il fatto di come la grande storia entra nelle nostre case, è stato assolutamente così. È stato un periodo veramente in cui, come dire, i nostri territori vivono la storia, naturalmente in maniera inconsapevole allora. E quindi è bene sempre sottolineare questa cosa qua, come che non si parla di storia localistica, si parla di storia locale che ha una valenza importante perché è inserita poi in un contesto storico di più ampia portata. Quindi è una cosa che, secondo me, come dire, arricchisce anche e dà valore a tutti gli attori che sono incrociati in nostro territorio, siano essi appunto chi li ha subiti come vittime e sia anche chi invece ha, in qualche maniera, contribuito al loro salvataggio. Sì. Allora, qui la vedete appunto, vedete le varie province con colori diversi. Come diceva Paolo, appunto, la regione nell'insieme, ve lo mostro velocemente da questa cartina, anche se è fatta in maniera molto semplice, potete rendervi conto del fenomeno. Ovviamente qui stiamo parlando soltanto degli ebrei stranieri, non dimentichiamo che nel giugno del 40 vengono internati anche gli ebrei, alcuni ebrei italiani ritenuti pericolosi. Non sono moltissimi, sul totale di una comunità, insomma, di una popolazione ebraica che era all'incirca di tre volte, tre, quattro volte rispetto a quella degli ebrei stranieri presenti in quel momento, ma ci sono anche loro. Come potete vedere, insomma, dicevo prima, la Calabria, perché c'era il campo di Ferramonti, e il Veneto acquista appunto un'importanza centrale, sia perché è geograficamente posto nei pressi di quel territorio che provocherà uno smottamento, una fuga di massa degli ebrei lì presenti verso l'Italia. Sto parlando, come avete capito, della ex Jugoslavia che viene smembrata e nel 41, in particolar modo dopo l'attacco dell'aprile del 41, noi vediamo questi arrivi in massa, abbiamo tantissimi documenti nel Vicentino che lo testimoniano, moltissime richieste, moltissime storie di persone arrivate clandestinamente, che hanno quindi pagato dei passatori, hanno pagato dei documenti falsi, moltissime storie di persone già internate addirittura in precedenza nei campi croati. Qui, brevemente, prima di zittirmi, una cosa importante. È vero che decine, centinaia di ebrei furono fatti entrare, ci sono alcuni documenti delle zone occupate dall'Italia che dicono espressamente che queste persone devono essere tolte da quei territori perché considerate spie, considerate pericolosi e che lì non potevano stare perché c'era il conflitto o perché loro potevano entrare in contatto con i partigiani del luogo. Però non bisogna dimenticare che ciò non presuppone un supposto buonismo del fascismo, presuppone una necessità logistica del fascismo su quei territori. E lo dimostrano alcuni documenti che poi sono stati resi noti del 42 ed è importante sempre sottolinearlo, in cui vengono sottoposti a Mussolini una serie di informazioni diplomatiche che provengono dal sud della Jugoslavia e dal nord dell'ex Jugoslavia e in un caso Mussolini dà in nulla osta alla deportazione degli ebrei affinché fossero appunto consegnati nelle mani dei nazisti, nel secondo caso in cui gli viene chiesto ma guarda che abbiamo una serie di persone che entrano terrorizzate e addirittura c'è scritto in questi documenti che queste persone sono molto probabilmente saranno eliminate e Mussolini di suo pugno scrive respinti. Quindi, ecco, noi dobbiamo un attimo inquadrare meglio, diciamo, da un punto di vista generale la situazione dopodiché, sì, dopodiché arriviamo alla provincia di Vicenza i numeri che vedete vi pregherei, vero Paolo, di prenderli con le pinze perché sono anni che contiamo 15 anni sono anni che contiamo a volte vengono fuori altri documenti i numeri ballano ancora comunque parliamo di oltre 600 persone Per esempio, già le fosse ardiattine due, dobbiamo aggiungerne uno perché proprio anche recentemente c'è stata la conferma, fra l'altro di un ex internato ad Enego Marian Rector che fu ucciso anche egli alle fosse ardiattine se poi mi passerete il pallino Sì, aspetto Paolo che... Anzi, lo mostriamo subito così ci togliamo il pensiero e vi mostro subito l'articolo Eccoti Ok, proprio dello scorso marzo Un attimo solo che devo trovare il mio testo Allora Eccolo qua Identificata un'altra vittima ignota Questo è un articolo del Corriere della Sera proprio dello scorso marzo del 2020 in cui, appunto, grazie al riconoscimento della prova del DNA fatta dal figlio che fra l'altro era nato a ottobre del 43 hanno scoperto, appunto, che una tra le vittime ignote era proprio suo padre Marian Rector e il figlio ha raccontato proprio quella che è la sua storia il fatto proprio che diventato Apolide ma di origine polacca noi nei nostri documenti lo abbiamo come Apolide si ritrova a passare una parte della sua vita appunto nel territorio bassanese in questo caso a Enego poi dopo fra l'altro nel 42 in Italia nasce la sorella nasce la figlia una delle figlie di Rector la famiglia scapperà dopo l'8 settembre andranno a Roma e qui, anche qua le storie si divideranno purtroppo questo, se non sbaglio, era uno dontoiatra fece anche un danno a un abitante di Enego e per questo fu denunciato e abbiamo anche l'articolo di giornale della vedetta fascista che riporta questa notizia un po' curiosa e passò dei giorni in questura al controllo insomma della polizia bassanese e poi appunto fuggì verso Roma e qui purtroppo cadde alle fosse ardattina ecco quindi dobbiamo queste cifre sono continuamente in aggiornamento ma è un po' la storia stessa della Shoah in cui i numeri veramente variano e ci è capitato di scoprire invece che qualcuno invece magari era sopravvissuto mentre noi lo mettevamo nella lista dei deceduti e viceversa quindi è una storia ancora in cui c'è molto da approfondire fra l'altro anche per Tonezza c'è uno tra i misteri più grandi se vogliamo sul campo di concentramento di Tonezza il documento che ci racconta di due internate due nomi che non compaiono in nessun'altra lista eppure in quella ci sono in una lista del medico di Tonezza c'è e però dove sono queste persone che fino hanno fatto tantissime domande che che devono ancora trovare risposta e noi siamo da un po' di tempo che ci stiamo lavorando però è questo anche una particolarità di questa storia se lascia a me il pallino della volevo dire alcune cose a proposito degli elementi indesiderabili Antonio giustamente ha mostrato queste circolari in cui si denuncia come queste persone in particolare gli ebrei profughi in questo caso ebrei stranieri fuggiti dalle persecuzioni tedesche già sin dal 1933 fossero appunto degli elementi indesiderabili fonte di pericolo per la sicurezza nazionale questo è un documento molto interessante perché ci fa capire alla fine quanto dove stava la verità secondo me e infatti è molto interessante perché è un documento della questura di Vicenza un attimo quello è un grandisco datato 31 dicembre 1941 un attimo che 31 dicembre 1941 è una data interessante perché perché siamo un mese dopo praticamente dall'arrivo dei primi grossi contingenti di ebrei tra il 20 il 25 novembre 1941 appunto le autorità militari italiane fanno costruiscono queste grosse tradotte di internati i primi 50 arrivano a Roana via mare poi via treno attraverso dara fiume portati da spaloto appunto perché bisognava in qualche maniera alleggerire la situazione logistica appunto in quelle zone militarmente molto importanti vengono portati a Vicenza un altro contingente 250 uomini donne bambini vengono arrivano appunto a fine novembre vengono internati in internamento libero quindi non in campo in concentramento cioè avevano degli obblighi di rimanere confinati all'interno del comune non potevano uscire dal comune avevano delle costruzioni non dovevano naturalmente possedere armi però dovevano essere sorvegliati dovevano porre firma ogni giorno sul libro dei carabinieri o del podestà del comune avevano degli obblighi piuttosto stringenti arrivano in questi anche piccoli comuni ecco io abbiamo identificato l'area della pediemontana dell'altopiano di Asiago come dire dall'aste basse fino a Cismon del Grappa potremmo dire una sorta di territorio a U in cui vennero posizionati anche quali potete vedere in diversi comuni molto piccoli come l'aste basse come Cismon come Enego come anche Canove di Ruana numeri consistenti di persone di elementi indesiderabili di nemici per la per la per lo Stato italiano per la nazione e questi erano talmente nemici che il 31 dicembre 1941 appunto un mese dopo il loro arrivo il prefetto il questore di Vicenza ha però come dire il dovere di stuettoneare come debba essere non bisogna avvicinare mantenere rapporti con questi internati che devono essere lasciati a distanza e questa circolare viene fatta proprio perché purtroppo come viene indicato straniato in questo all'inizio di Capoverso sono arrivano già notizie che tali normi restrittive non venivano osservate in tutti i comuni e ove sono stati destinati questi ebrei stranieri anzi molti posti tra coloro tra costoro e la cittadinanza vi sarebbero confidenza e dimestichezza completa allora è molto interessante da una parte le autorità fasciste che le vedono come nemici e poi questi nemici arrivano in questi comuni e poi che cosa succede succede che si instaura anche un rapporto di convivenza anche di amicizia a volte allora è interessante perché loro questo gruppo di persone in fondo era che cosa apparteneva a un gruppo che era stato negli ultimi anni dal fascismo stigmatizzato come naturalmente nemico come gli ebrei come nemici della patria come espulsi dallo Stato dalla 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 vita cittadina anche gli ebrei italiani e nonostante questa nonostante questa forza alla fine in verità si instaurano questi rapporti amichevoli e la cosa come si potrebbe potrebbe essere spiegata beh uno una spiegazione molto particolare potrebbe essere legata a come dire a una sorta di empatia che poteva anche nascere tra questi profughi e magari le persone di alcune zone in particolare di alcuni comuni come per esempio quelli relativi all'altopiano di Asiago parlo di Enego parlo di Canove in cui ci sono testimonianze proprio come gli abitanti locali percepivano una vicinanza rispetto a queste persone perché anche essi avevano subito precedentemente durante il primo conflitto mondiale per esempio la stessa esperienza di profugato se non di internamento in altre zone del paese durante la prima guerra mondiale quindi questa era un'esperienza che in qualche maniera poteva avvicinarlo l'altro elemento probabilmente il principale è il fatto che appunto dovendosi trovare per forza condividere degli spazi interni ai propri domicili perché molti prendevano affitto nelle case appunto degli abitanti appunto locali questa vicinanza faceva sì che in maniera naturale venisse fuori che questi ospiti indesiderati erano stati soggetti a come dire a uno stereotipo la loro condizione negativa era frutto di una costruzione perché in fondo come dire quasi non erano come loro quasi erano più benestanti di loro erano visti in maniera quasi come dire molto particolare come forestieri ma di un certo livello quasi quindi quasi facevano più soggezione per questo motivo per la loro come dire origine anche mitroeuropea culturalmente di un certo tipo rispetto magari a quella dei locali e questo portò appunto la vicinanza a smussare quasi da subito appunto quelle che potevano essere invece dei motivi per provare odio e violenza e scontro e pregiudizio ulteriore nei loro confronti una cosa volevo sottolineare a proposito della differenza tra l'internamento degli ebrei rispetto a quella degli altri sudditi appartenenti stati nemici potevano essere francesi inglesi greci ad esempio tutte le nazioni che erano in lotta con l'Italia in quel momento è che ad esempio il ministero dell'interno nei confronti degli ebrei ebbe un certo tipo di considerazione di rapporto completamente diverso rispetto appunto a questa di altri sudditi nemici nel senso che il ministero dell'interno non voleva il capo della politica non voleva per esempio per quanto riguarda appunto i britannici i francesi residenti nel nostro paese che dovevano essere internati secondo il ministero della guerra in maniera anche radicale totalitaria dovevano essere tutti quanti comunque sorvegliati perché appunto nemici per la nostra per la patria il ministero dell'interno invece ha un atteggiamento un pochettino più morbido più moderato senza dubbio perché perché teme appunto ritorsioni per quanto riguarda invece i cittadini italiani presenti in altri paesi belligeranti con l'Italia e quindi per timore di ritorsioni nei loro confronti cerca di attenuare tutte le possibili norme restrittive nei loro confronti cosa che non fa invece quegli ebrei tutto per farvi capire mentre gli ebrei internati gli ebrei stranieri vengono internati tutti quanti praticamente o nell'internamento libero o nel campo di concentramento non sfugge nessuno in archivio centrale dello Stato a Roma ci sono migliaia e migliaia di fascicoli personali riguardanti queste persone per quanto riguarda i sudditi nemici questo non avviene nel marzo del 1941 come ha riportato anche Carlo Spartaco capo greco nel suo famoso libro i campi del duce giusto per farvi capire su 4.490 britannici presenti nel territorio italiano ne erano stati internati in campi di concentramento 161 e 400 nei comuni questo vi fa capire come veramente c'erano due differenti modi di trattare di trattare questo tipo di questo tipo di persone ora il tempo veramente scorre velocissimo e interrompo questa condivisione e voglio dire ancora una cosa per quanto riguarda gli internati non ebrei appunto grazie anche a questa moderatezza con cui furono trattati essi vissero all'interno dei nostri comuni in una maniera abbastanza come dire potremmo dire anche tranquilla una testimonianza che ho trovato allora che ho rintracciato allora quando iniziavo questa ricerca a Marostica in particolare c'erano due due baronesse madre e figlia che erano ospitate da una famiglia marosticense e vivevano ricordo fra le testimonianze in questa testimonianza venivano citate come venivano ricordate come delle persone assolutamente benestanti come di brava gente che persone fortunate che erano questi marosticensi avere questi questi nobili quante torte facevano quindi una condizione completamente differente rispetto all'internamento ebraico forse un pochettino diciamo in una via intermedia erano invece gli internati albanesi in particolare sempre a marostica arrivarono perché partivano già da una situazione piuttosto piuttosto deficitaria e quindi come dire erano lasciati quasi a loro stessi tanto che quasi fortunatamente arrivò una la liberazione da parte del duce per alcuni di loro e questi in qualche maniera furono sciolti dal legame dell'internamento e tornarono in patria altri in qualche maniera dovettero vagare o furono spostati nei campi di concentramento del centro-sud Italia in particolare un internato albanese classe 1922 Xuli Petro si trovò a essere spostato tra Marostica e Sanazzario e Sanazzario e Marostica e lui era l'unico che parlava la sua lingua e ci sono appunto queste corrispondenze delle autorità locali con questo con questa facevano presente questo problema e con questa persona si ritrova completamente isolata e quindi si chiede di riportarlo in un altro posto dove poteva in qualche maniera essere insieme ad altri suoi connazionali quindi fu un fenomeno piuttosto piuttosto vasto che coinvolse naturalmente non solo persone adulte di sesso maschile ma anche famiglie intere che con bambini con con anziani cercarono di sopravvivere in quegli anni piuttosto 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 duri per loro appunto perché soggetti a grosse restruzioni una cosa molto interessante molto interessante una cosa che in qualche maniera è sempre bene ricordare è quanto al di là che loro potessero mantenersi o no da soli che questa fu per molti la scelta di andare in internazamento libero o no ad esempio era il fatto che loro non sapevano niente per esempio dei familiari che erano rimasti appunto nelle zone sorvegliate dai tedeschi o che erano allo stesso tempo internati in Italia ma posizionati nei campi di concentramento e quindi proviamo a immaginare la sensazione che potevano vivere queste persone che non avevano un orizzonte davanti di speranza da un certo punto di vista tanto più vivevano situazioni molto ansiogene appunto per non sapere che fine avevano fatto i loro cari e quindi vivevano una quotidianità certamente sempre molto in bilico al di là appunto che in effetti da un punto di vista storico potremmo dire che il periodo che vissero in particolare in provincia di Vicenza fu un periodo relativamente tranquillo Antonio ha la sua la sua mostra la 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 chiamata rifugio precario era precario era pur sempre un rifugio poi le cose naturalmente cambiarono dopo l'8 settembre Antonio vuoi dire qualcosa a tu a proposito della svolta no no mi è molto interessante quello che hai detto perché rientra perfettamente poi nell'interpretazione se vogliamo di Bauman no su il problema del fascismo il problema diciamo che è stato la cosa positiva per gli ebrei e per gli altri internati è che il fascismo non è riuscito ad allontanare le vittime dalla popolazione italiana non è riuscito ad allontanarle dallo sguardo come dicevi tu Paolo non è riuscito a spezzare il legame tra tra le persone non c'è stato l'allontanamento burocratico come magari avvenuto appunto in Germania con l'espulsione verso est che e quindi sono rimasti i legami altra cosa erano i fasci locali vero ci ricordiamo tutte le lettere anche alcuni anche alcuni vicentini in qualche paese che si lamentavano della delle frequentazioni ricordiamo anche se in altre zone insomma uno ad Arzignano che si era innamorato di una ragazza del luogo fu spedito a Ferramonti perché Ferramonti era la punizione delle punizioni insomma questo era il così come le ragazze di Camisano che erano in bicicletta e che furono portati in carcere quindi abbiamo sì una situazione piuttosto fluida e che poi diventa grumo di paura di terrore nel dopo come dicevi tu Paolo come accennavi dopo l'ordine di polizia del 30 novembre e lì si vengono a creare una serie di situazioni per cui è vero quello che stava che stava dicendo prima Paolo in molte testimonianze io penso non soltanto al Vicentino ma anche ad altre province ci sono proprio sopravvissuti dopo la fuga del 43 che poi arrivati negli Stati Uniti in Israele sono in tutto il mondo che dicono quelli sono stati due io ringrazio gli italiani questa è la frase non ringraziano i fascisti attenzione ringraziano gli italiani e la sensazione di questa sospensione del tempo e delle vite che se paragonata al periodo della fuga precedente perché per lo più arrivavano dai paesi in cui la persecuzione era già in atto vorrei ricordare che migliaia di persone vengono portate a Dachau dopo la notte dei cristalli la cristallnacht cioè ci sono già una serie di misure restrittive anche molto forti in Polonia nell'università in Ungheria in Romania quindi se paragonati al periodo precedente a quello successivo quei due anni per loro sono un momento di assoluta tranquillità sì c'è una sorta di rallentamento del tempo quasi e poi questo tempo viene riaccelerato non appena appunto arriva a luglio del 43 cade 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 Mussolini molti di essi intuiscono prevedono un possibile intervento nazista anche in Italia e allora là le reologi del tempo potremmo dire ricominciano a battere un pochettino più forte ed è quello che poi alla fine accade ma come dire noi abbiamo delle testimonianze che appunto la notizia di un possibile invasione tedesca dell'Italia era già all'orecchio di molti internati i quali avevano chiaro quello che poteva capitare loro se fossero stati presi perché appunto avevano già sperimentato come diceva Antonio tutta quella feroce persecuzione che avevano subito già iniziata e subito sia in Germania sia poi negli altri paesi occupati in particolare anche già in Jugoslavia dopo le prime settimane di occupazione tedesca e loro capiscono che di fronte a un pericolo del genere è meglio scappare e già ad agosto del 43 abbiamo una famiglia che da Montecchio Maggiore se ne scappa a Roma e il 9 settembre loro non perdono non perdono tempo la maggior parte di essi non perde tempo e decide di di fuggire di darsi la macchia di fuggire in qualche maniera trovare una una possibile via di fuga che potevano essere come dire fondamentalmente tre giusto Antonio sì noi abbiamo notato questo in realtà poi ognuno ha scelto in base alle sue risorse alle sue strategie non solo emotive ma anche alla propria capacità di lettura del contesto allora noi vediamo sicuramente poi attraverso l'aiuto di partigiani di giusti ricordiamoli sul territorio veneto nel vicentino vediamo anche queste diversi ebrei che arrivano in Svizzera è indimenticabile vero Paolo quando abbiamo visto quel documento della famiglia Klein con Agnese Schiller io la ricordo sempre perché è incredibile quella storia quando la famiglia Klein viene arrestata è destinata al campo di Tonezza del Cimone e quindi alla deportazione ad Auschwitz il 30 gennaio del 44 ma Agnese Schiller è incinta di otto mesi e viene la famiglia Klein viene riportata momentaneamente in attesa di decisioni ad Arsiero ovviamente non se lo fanno ripetere due volte grazie noi sappiamo al lavoro di Rinaldi di Fracon di Gino Soldà di Mary Rinaldi la sorella insomma grazie a questo gruppo e ad altre persone ovviamente c'è questa possibilità di fuggire in Svizzera moltissimi ma molti il grosso comincia a fuggire verso sud l'idea di raggiungere di allontanarsi più possibile innanzitutto dai nazisti e di raggiungere gli alleati il problema è che alcuni non sapevano che cosa avrebbero trovato quindi noi troviamo per esempio nella zona di Ascoli purtroppo noi dobbiamo sempre ricordare che oltre ai deportati da Tonezza la provincia di Vicenza piange altre persone che erano fuggite verso il sud ma finirono nei rastrellamenti dei nazisti portati nel campo di Servigliano poi ricondotti a Fossoli e da Fossoli ad Auschwitz quindi quel numero a cui di cui parliamo sempre no? quei 43 42 perché poi c'è la famiglia Landman eccetera in realtà un numero più grande da prendere in considerazione quindi il sud sicuramente una un percorso pericolosissimo perché tra l'altro molti poi si trovarono a chiedere aiuto per fortuna nel centro Italia c'erano le bande partigiane gruppi partigiani che aiutarono anche diversi ebrei a nascondersi o le popolazioni locali e poi c'era è vero Paolo in alcuni il tentativo addirittura di raggiungere le terre di origine no? la Jugoslavia in Jugoslavia sì tra l'altro Aaron Cohen che era internato a Canove di Ruana lui fugge fugge un po' dopo non a settembre quando accade appunto che la Repubblica Sociale emana questo ordine che già citavi tu prima l'ordine di pulizia numero 5 in cui viene dichiarato che tutti gli ebrei di qualsiasi nazionalità anche italiana quindi dovettero essere dovevano essere arrestati e concentrati in appositi campi di concentramento provinciali e i loro beni sequestrati questo 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 uomo Aaron Cohen cerca di ritornare verso la Jugoslavia e e viene arrestato a Monfalcone se non ricordo male e riportato poi ad Asiago incarcerato e poi anche egli andrà a confluire a Tonezza quindi diciamo che fu una questione anche di tempismo di prendere la palla al balzo di dopo l'8 settembre di 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 cogliere quella quel colpo di fortuna che poteva che poteva essere il caos lo sbandamento della della struttura il collasso delle istituzioni italiane che potevano dare un attimo di margine utile per poter perlomeno darsi alla macchia far perdere le proprie tracce e fortunatamente la maggior parte di essi riesce a fare questo dopo con con più o meno successo ma fondamentalmente il più del 90% riesce a sopravvivere al conflitto mondiale quindi sì Antonio è molto interessante per esempio a proposito di questo non so se riesce a condividere il quel quel documento del podestà di 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 San Nazario Umberto Bonatto che fra l'altro lui nel momento in cui erano internati gli ebrei lì in quel comune della Val Brenta non era stato come dire molto tiepido nei loro confronti ricordiamo che molti di essi erano stanziati a Carpanè e se voi sapete potete immaginare appunto la distanza tra Carpanè e San Nazario si tratta di qualche chilometro e queste persone dovevano dovevano ogni giorno spostarsi dal paese prospicente Vastagna fino a San Nazario e sono diversi chilometri da fare per appunto porre loro firma di presenza nel libro della podestà Umberto Bonatto però ecco nel settembre rilascia un documento di riconoscimento che consente a taluni di anche una volta anche fermati di poterlo esibirlo alle autorità e quindi le autorità li lasciano andare perché appunto gli viene detto che erano d'accordo con il podestà gli avevano dato questa possibilità al podestà di San Nazario quindi è molto interessante fra l'altro anche oggi sul giornale di Vicenza c'era riportata la storia di come alcuni impiegati dell'ufficio comunale di Enego aiutarono molti ebrei ad avere carte di identità false che era fondamentale una falsa identità avere una falsa identità come altrettanto fondamentale era sostenere questa falsa identità però da questo punto di vista come dire i due anni di internamento in Italia avevano aiutato almeno molti sicuramente i più piccoli i bambini che oltre diciamo ad aver imparato un po' di italiano avevano anche anzi più di aver imparato italiano avevano imparato il dialetto vicentino e quindi in qualche maniera le volte erano loro a parlare e ad essere in fondo lago della bilancia della sopravvivenza della propria famiglia vedo che abbiamo fatto le 18 e 26 quasi quindi se se volete ci fermiamo se c'è qualche domanda a proposito vediamo se mi passo un attimo Antonio il il pallino dimostro il documento fotocopiato naturalmente dall'originale che abbiamo trovato all'archivio all'archivio di stato di Vicenza ve lo mostro subito perché è molto interessante eccolo qua con questo foglio gli ebrei internati lì riescono a in qualche maniera farla franca scendono a Bassano riescono a prendere il treno e dirigersi verso il sud Italia alcuni di essi vengono fermati ma esibiscono appunto questo documento dicono alla guardia che è stato prego scusa Antonio no no se io lo vedo piccino se clicchi sì un attimo mi dà questo problemino non si è visto quindi peccato era piccolo va bene comunque vediamo in velocità se riesco a rimostrarlo ingrandendolo da qua sì con situazioni davvero davvero diversificate io ricordo ormai ci ripetiamo all'infinito eccolo qui eccolo qui vai vai poi dico dico ecco questo è il documento che viene rilasciato è un documento che non serve a niente cioè nel senso che è un documento che non aveva nessun valore però ecco appunto in quei momenti di settembre questo valore lo viene ad acquisire e diventa determinante appunto per la salvezza ecco qua si dicevo con situazioni molto diversificate vero se volete voi scrivete in chat nel frattempo così possiamo ricevere le osservazioni curiosità domande perché noi andiamo da appunto da quello che diceva Paolo di San Nazario al carabiniere che si presenta da Don Michele Carlotto e gli dice ho ricevuto l'ordine di arrestare tutti gli ebrei di Valli del Pasubio ma invece di 24 ore ve ne do 48 cioè il giorno dopo praticamente sarebbero andati ad arrestarli vi do un altro giorno noi due non ci siamo mai parlati e ciò dà il tempo a Valli non solo a Don Michele ma ad altre persone di disperdere gli ebrei e poi abbiamo al Bettone scusate se vado da una zona all'altra del Vicentino per intenderci o Barbarano dove abbiamo il 100% di deportati quindi sono situazioni davvero particolari che andrebbero indagate sul territorio non solo tramite gli archivi ma cercando di capire che cosa è successo e non tutte le storie sono chiare come per esempio l'unico internato a Bassano del Grappa Leone Rosenberg classe 1880 internato già nel 40 appunto come ebreo straniero lui era di origine di origine Jugoslavia alloggiato presso l'albergo Il Mondo a Bassano del Grappa noi non sappiamo poi quali sono le sue traiettorie che cosa gli accade perché purtroppo i documenti non ce lo spiegano si interrompono a un certo punto e questo è un po' anche il problema che finché erano sotto l'internamento sotto questa costrizione erano come diceva Antonio lo sviluppo di documentazione è veramente amplissima quindi ci aiuta a tracciare veramente tanti aspetti della loro storia poi dopo l'8 settembre tutto cambia c'è un problema anche che in effetti per la provincia nostra purtroppo i documenti del gabinetto della prefettura furono distrutti durante i bombardamenti su Vicenza quindi non ci consente di magari approfondire quello che la RSI fece nella nostra provincia però ecco è probabilmente una storia che lascerà tante cose ancora in sospeso e tante cose dovranno dovranno essere sicuramente riviste o potranno essere riviste anche il ramarico è probabilmente di essere ma è un po' il problema dei noi storici di essere arrivati un po' troppo tardi alle volte a porre qualche domanda e quindi probabilmente una storia ricostruita già 20-25 anni fa ci avrebbe potuto dare uno sguardo molto interessante soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra le persone del luogo e gli ex internati non a caso molti di essi continuarono poi a tenere rapporti ottimi rapporti con le famiglie che li ospitarono durante i momenti di internamento e se continuiamo a mantenere rapporti significa evidentemente che erano tutt'altro che nemici queste persone vediamo se qualcuno rompe il ghiaccio e vuole appunto Francesco deve riattivare l'audio bene allora finché arrivano le domande viaggiate volevo approfittare per portare una precisazione e chiedervi una piccola cosa la precisazione riguarda il fatto che mettendo anche tutti gli stranieri presenti a Bassano che vennero in qualche modo tra virgolette internati sarebbe da sottolineare due padri gesuiti nati a Malta e pertanto sudditi inglesi che furono costretti a non uscire dal convento di Villa San Giuseppe dove abitavano e vennero tecnicamente espropriati di ogni bene in realtà durante la guerra riuscirono clandestinamente a scappare non fecero mai più ritorno in Italia altro così approfondimento merita dire a riguardo dei Westen la famiglia che aveva costruito le smalterie di Bassano erano sudditi jugoslavi i fondatori anche perché avevano dovuto diventarlo rinunciando alla nazionalità tedesca per non vedersi togliere le fabbriche che avevano appunto in Jugoslavia ebbene questi vennero denunciati ma il comune sottolineò che non sapeva dove abitavano che non avevano proprietà nella zona di fatto tutto il complesso passò come proprietà con una legge apposta della Gazzetta Ufficiale al direttore Sostro l'approfondimento che volevo fare è che in questa giornata della memoria si insiste molto giustamente ovviamente sulle leggi razziali meglio dirle razziste però da quanto avete illustrato stasera viene fuori il peso l'importanza proprio spasmodica di circolari prefetti questure che hanno di fatto costruito un sistema concentrazionario in Italia per via amministrativa al di fuori anche proprio di una legge per quanto ridotta fosse la funzionalità del Parlamento approvata a livello parlamentare quindi questo forse meriterebbe essere ripreso posso dire una cosa c'è un libro di cui l'attrice si è impegnata poi a riscoprire e approfondire moltissimo la storia dell'internamento in Italia che è Anna Pizzuti il suo libro sugli internati a Frosinone se non ricordo male correggimi Antonio si intitola proprio vite di carta e questo testimonia appunto come dire come erano seguiti come erano sorvegliati in questa maniera anche il livello di burocrazia nei loro confronti era veramente altissimo per loro era sicuramente un onere basta pensare che per esempio per avere una singola richiesta di spostamento dovevano redare lettere al comune al podestà al ministero dell'interno dovevano attendere i tempi che allora naturalmente non erano come questi di oggi però d'altra parte questa cosa a noi storici ha fatto comodo perché appunto ci ha dato una grandissima mole di documentazione su cui puoi poter andare a lavorare è vero che a livello amministrativo il fascismo si impegnò si impegnò molto in particolare per quanto riguarda come ho detto appunto l'internamento dell'elemento ebraico diciamo così rispetto invece ai sudditi stranieri dove appunto il ministero dell'interno fra l'altro si trovò spesso in contrasto col ministero della guerra che aveva invece una posizione molto più dura avrebbe voluto tutti gli internati appartenenti a stati nemici tutti i sudditi appartenenti a stati nemici internati in campi di concentramento in maniera proprio radicale il ministero dell'interno in questo caso appunto come ho spiegato ebbe una situazione un pochettino più morbida cosa che non fece invece per quanto riguarda gli ebrei stranieri con riferimento a un'altra provincia ma insomma c'entra anche Vicenza che è quella di Padova dove gli internati erano di meno quindi insomma sono riuscito più facilmente a lavorare famiglia per famiglia internato per internato è evidente attraverso la lettura dal basso come ci sia stata il tentativo direi piuttosto riuscito della gestione del problema razziale attraverso la macchina burocratica amministrativa ma non solo e questo rientra in pieno nel concetto di burocrazia Weberiano a cui possiamo fare riferimento è una razionalità rispetto allo scopo che non si cura dell'aspetto etico non ha nessun riguardo non ha nessun riguardo nei confronti delle vittime ci sono alcuni documenti terribili in cui gli ebrei quando arrivano un po' come avevano fatto gli ebrei italiani nel 38 nel tentativo di documentare i benemeriti che dovevano dimostrare di essere degli ebrei quasi migliori questa umiliazione dell'ebreo che doveva dimostrare di avere un nonno garibaldino o di aver combattuto nella prima guerra mondiale o di essersi iscritto grandissimo merito al partito fascista dopo l'assassinio di Matteotti allora allo stesso modo quando gli ebrei stranieri arrivavano l'unica possibilità che avevano era di ovviamente di presentare la propria vita loro pensavano che arrivassero numeri invece arrivavano vite arrivavano storie arrivavano racconti e sono racconti drammatici di persone che ripeto i Buchwald gli stessi che ha citato prima Paolo quelli di Montecchio che poi vanno a Roma che arrivano dicendo noi eravamo in un campo di concentramento a Gospic e siamo riusciti a fuggire in modo veramente casuale nello spostamento tra un campo e l'altro prima della deportazione definitiva altri che che raccontano dei parenti e quando arrivano in Italia se arrivano perché ricordiamoci dei rispingimenti del fascismo in Croazia quando arrivano in Italia ci sono alcuni che cominciano a dire ma io il mio parente oppure non riesco a vivere non ho niente con me ci sono risposte agghiaccianti in cui il ministero dice se questa cosa non vi va bene potete andarvene al confine raggiungere il confine a vostro rischio e pericolo testuali parole il fascismo sapendo bene quello che stava accadendo oltre quel confine si passami passami un attimo il palino di organizzatore che ce l'hai ce l'ho quello di Oberson ad esempio vai vai ce l'ho già ok perdonami te ho interrotto Antonio prosegui io mostro il documento intanto questo è un documento del 42 del 3 agosto in cui Miroslav Oberson internato in valle del Pasubbio chiede notizie dei propri genitori e l'autorità in questo caso il ministero delle fare esteri che scrive dice chiaramente come i suoi genitori internati dai croati dagli ustasha croati sono deceduti in deportazione quindi chi dice che non sapessero cioè è assolutamente falso soprattutto l'apparato amministrativo ne era conoscenza non solo quello militare che poi magari operava in Jugoslave o assolutamente tutti tutti ne erano erano consapevoli del trattamento che riservavano i tedeschi appunto agli ebrei e quindi forse dall'altra parte non c'è neanche da stupirsi dopo l'8 settembre con la Repubblica Sociale che anche l'apparato amministrativo italiano fosse già pronto fondamentalmente anche a trattare questo tipo di materia e in qualche maniera pareggiarla con quella con quella tedesca fondamentalmente e qua siamo qua siamo nel 42 secondo questo documento quello che dicevamo prima cioè se noi leggiamo ed è questo è incredibile la grandezza poi di alcuni pensatori appunto come Max Weber cioè se noi andiamo a vedere lui a un certo punto dice la burocrazia che è abituata in questo meccanismo che non fa domande ma che si autoalimenta nella ricerca della soluzione migliore questa stessa burocrazia si mette al servizio di qualunque potere nel momento in cui è richiesto il passaggio di potere un altro elemento interessante se vogliamo è quello della questo è particolare della della continua dinamica tra la periferia e il centro cioè il potere il potere vicentino diciamo così o quello padovano eccetera contrattano ma non è solo qui lo vediamo in Lombardia lo vediamo in moltissimi in Toscana attraverso i documenti sì stavo leggendo una cosa scusate nella chat adesso rispondiamo se noi andiamo a vedere questa cosa qui vediamo che le province tra l'altro con quello che potremmo definire NIMBY l'atteggiamento non il mio cortile e dice no qui no qui non c'è posto no gli internati qui non li vogliamo valli a mettere da un'altra parte no questo ragazzi cioè qui stiamo parlando di di una serie di linee la clandestinità con cui arrivavano il non voglio queste persone valli a mettere in un'altra provincia oppure rimandiamole all'estero voglio ricordare Anpassan che Sarfatti ce lo spiega bene che nell'estate del 43 cioè quando ormai il fascismo era lì era stava implodendo la direzione del partito nazionale fascista chiese l'espulsione degli ebrei dall'Italia estate 43 e sempre nel giugno 43 chiese l'istituzione di quattro campi di lavoro per tutti gli ebrei presenti in Italia questa come alternativa e sempre in quel momento e questo veramente scioccante chiese che gli internati di Ferramonti di Tarsia fossero trasferiti nel campo a Bolzano dove poi sarebbe sorto il campo quindi è un fascismo che già prima e questo è molto importante da sottolineare già prima del quel passaggio cruciale del settembre poi del novembre del dicembre 43 stava intensificando aumentando la propria violenza ehm organizzativa nei confronti del degli ebrei eh sono piccole cose che appartengono a documentazione eh e che però vanno messe insieme cioè se noi mettiamo tutti insieme i tasselli io sono almeno non so Paolo tu ma eh cioè ci si ci si sta sempre più convincendo che la responsabilità del fascismo non è solo quella del dopo 8 settembre della Repubblica Sociale ma che il fascismo eh per quello che aveva adottato per la strada che aveva intrapreso era già potenzialmente che sia chiaro potenzialmente genocidari sì anche perché poi di fronte anche alla conoscenza di quello che stava facendo l'alleato come dire non c'è nessun come dire resistenza o perlomeno segno di non dico protesta forse non era neanche possibile da questo punto di vista però non era neanche immaginabile proprio perché la politica razzista si inseriva pienamente in quello che era la politica totalitaria sia del nazismo sia del fascismo e quindi quindi sì la cosa interessante che mi è venuta in mente quando parlavi Antonio è anche la differenza alle volte appunto tra questa amministrazione locale centralizzata appunto totalitaria e magari quella locale dove come dire accadono anche cose un po' particolare un po' strane il fatto che dall'aste basse per esempio parte una comunicazione del ministero siamo il 2 dicembre del 41 appena sono arrivati un paio di famiglie dalla Jugoslavia queste famiglie chiedono per i propri figli se possono frequentare le scuole elementari locali stiamo parlando dell'aste basse ok e stiamo parlando del fatto che i bambini sono un problema nel senso sono il nostro futuro è importante farli studiare è importante che continuino è un po' quello che fanno anche penso tutti i genitori cercare di dare un po' di normalità a questi bambini ai loro figli e chiedono se possono frequentare le scuole locali e dall'aste basse dal comune fanno richiesta al ministero e il ministero dice guardate che ci sono le regi razziali che già da da un paio d'anni hanno vietato agli ebrei di frequentare di frequentare la scuola quindi ci sono alle volte queste 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 piccole cose che però fra l'altro sono testimonianza di appunto dello spirito delle delle vittime in pectore di continuare in qualche maniera a portare avanti le loro vittime in un certo modo e dall'altra parte un'organizzazione più ampia lo Stato che invece è sta spingendo per andare appunto a chiudere sempre di più le tenaglie nei loro confronti e la tensione che ne viene fuori secondo me anche da un punto di vista filosofico ha qualcosa di incredibile e non a caso poi queste cose hanno portato anche alla scrittura e alla riflessione che ha portato a quel fantastico libro che è Le banalità del male quindi è una riflessione proprio su come può arrivare l'umanità a diventare così dire Barbara nei confronti dei propri diciamo simili qual è il percorso che ha portato a questo le tematiche sono diciamo molto 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 importanti e non semplici anche anche da affrontare devo dire sì chiedo scusa mi veniva in mente a proposito Paolo del sapeva o tra tutte le cose che sono state dette oggi che faccio faccio solo un esempio ma in provincia di Padova a un certo punto arriva un gruppo da Podum è fatto solo di donne e bambini allora se noi andiamo a vedere cosa è successo a Podum lì i fascisti hanno fucilato tutti gli uomini sono entrati nel villaggio sono entrati nel paese hanno fucilato la popolazione maschile hanno internato le donne quindi non solo sapevano quello che gli alleati stavano facendo ma erano ben consapevoli che non sto parlando di ebrei quindi stiamo parlando di iugosladi che vengono portati in Italia come i famosi dico famosi tra virgolette congiunti di ribelli una formula che veramente ci vuole una maestria sono congiunti di ribelli e i ribelli dove sono e questo è questo il problema internati nei campi nella ex yugoslavia o internati in Italia o addirittura fucilati e quindi il fascismo sapeva anche qual era l'orrore che lui stesso stava provocando quindi ecco una persona in chat ci ricolleghiamo Rita Chiappini dice questo contrasta con la narrazione di italiani brava gente se volete intervenire è vero Rita ecco Rita è qui sì sappiamo tutti che c'è questa narrazione popolare ma non solo popolare alimentata anche da persone che sono state al governo voglio dire che vuole raccontare che in fondo noi eravamo dei bonaccioni che siamo stati manipolati dalla grande Germania più cattiva che in fondo noi quando abbiamo eravamo nelle colonie eravamo buoni abbiamo fatto le strade ok e che anche le leggi razziali non erano poi così dure e che poi non ci siamo mai comportati troppo male in realtà ci siamo comportati da fascisti da razzisti e se poi non abbiamo organizzato proprio qualcosa di grande e di efficace forse non abbiamo avuto il tempo forse non eravamo così tanto convinti però la burocrazia dice tanto perché la burocrazia è fatta da tante persone comuni che facevano un lavoro giusto? che non erano neanche sotto i riflettori quindi se la burocrazia era così precisa e orientata questo ci fa capire bene che non eravamo brava gente e che dovremmo fare i conti con quello che siamo stati perché finché non li facciamo e fin in fondo non facciamo un passo avanti non ci sono altre non ci sono altre domande mi sembra vero? quindi beh ringraziamo la signora Rita Chiappini per il suo intervento e naturalmente ringraziamo i due relatori il professore Spinelli e il dottor Paolo Taggini per i loro i loro preziosi contributi credo che vista l'ora possiamo chiudere il nostro incontro qui ricordo a tutti che sarà possibile rivedere questa conferenza nel canale YouTube della Biblioteca Civica e diamo appuntamento al 12 di febbraio quando ci sarà un incontro molto interessante il cui titolo è il giorno del ricordo origini celebrazioni narrazioni estereotipi tenuto dalla professoressa Tullia Catalan dell'Università di Trieste quindi ringrazio ringrazio anche il professor Francesco Tessarone e tutti coloro che collaborano con la rassegna di Venerdì Storia e quindi l'appuntamento è per il 12 di febbraio grazie 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 a voi questo è il soldo no comunque grazie 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 a voi